12 nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana, un terzo dei quali scoperti grazie alla campagna di test sierologici avviata a fine aprile. 12 casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, come riportato nell'ultimo bollettino regionale sull'epidemia. Oltre 3.200 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, mentre le nuove guarigioni sono 95. La metà dei nuovi casi arriva dalla provincia di Firenze, uno da quella di Pistoia, così come da Livorno e Pisa. I restanti tre arrivano dalla provincia di Massacarrara. La zona dell'Asla Toscana sud-est, ovvero le province di Arezzo, Siena e Grosseto, continua ormai da qualche giorno a non rilevare nuovi tamponi positivi. Crescono dell'1,2% invece i guariti, che toccano quota 7.897, con un aumento significativo delle guarigioni virali, i cosiddetti negativizzati. Complessivamente restano 1.033 le persone positive in isolamento a casa, poiché asintomatiche o con sintomi lievi, mentre sono 6.312, ben 200 in meno nel giro di 24 ore, gli isolati in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora i ricoveri nei posti letto dedicati al Covid. Sono 9 complessivamente in meno, con le terapie intensive ormai pienamente sotto controllo. Si registrano infine 6 decessi, 5 uomini e una donna, con un'età media superiore agli 83 anni.